Ecco che sto andando verso la prossima missione, dunque ho scelto la missione dietro le linee nemiche in pratica, allora faccio anche un riassunto anche per me, che sono così tante che non mi ricordo Allora arrivo Sloan Kenley e Rayette hanno respinto i cat da cadare a port, ma corre voce che un gruppo di sbandati crea ancora problemi sulle colline Kytus Ah, sulle colline punto, Kytus vice di Sloan ti ha chiesto di indagare Ok, andiamo a indagare, insomma alla fine facciamo anche il detective, tutto sommato, non mi dispiace Allora, vediamo se riusciamo ad andare su Di qua Ok È tutta una montagna qua No, a meno che qua c'è la strada, aspetta Beh Sì, ecco appunto Sto facendo la Stata più complicata quando, aspetta, c'è la stradina, c'è il sentiero Poi faremo anche i monoliti, eh Prima faccio qualche missione, come su Voild E dopo alla fine, o quasi Faccio anche i monoliti Ok Parla con il superstite E lui? No, poi è morto Ehm, qua Commerciante Ehm, chi è qui? Hamash, è tu? Non parlare, ci siamo tornati a casa Oh, non posso andare È... è troppo tardi È solo... Voglio restare Hey, è ok, resta calma, lo capisco Puoi mi raccontare cosa succede? È... è la città È stata 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 la città John lasted the longest I didn't know how I was still alive I saw them raid in our packs Then they... They took off into the hills What's in the hills? Is there a Kett base there? There's nothing in the hills I don't... We've never heard of a base Sloan says Kedara is free of Kett Eh beh, ma noi dobbiamo indagare What did the Kett take from you? I... I don't know Supplies, weapons, scavenged ship parts I'll leave you to rest Thank you I... I wish... Kaidus is rider, your cat rumors have wait Just found a caravan they attacked Dammit, really thought we got them all One of the wounded said they headed for the hills I'm going to check it out I'll search two Grabbing a shuttle now Ok Eh... Ah, eseguire la scansione per trovare ca... Eh... Tracce, va bene Vediamo Questa è una navetta schiantata Che c'è? Ma se abbiamo lo scudo Come facciamo a bruciarci? Vabbè Eh, non so Eh... Non vedo nient'altro Spaccate in due tra l'altro La navetta Non rileviamo niente Aspetta, magari là Vediamo Cos'è quello? Ah, ok Un altro corpo Oh, qui non c'è niente Aspetta, non è che Sono segnate Ah, magari non qui? No Sì, ah Un po' più Un po' più distante Aspetta, là Andiamo Avevo capito che erano tipo qui Allora andiamo un po' più in là Eh Il posto è questo Ah, ecco Ok Abbiamo l'indicatore Ah, dalla parte opposta Di là Vabbè Allora saliamo Quanto è distante Non si... Ah no Vabbè Qui vicino Vabbè Andiamo a vedere Devo scansionare altre tracce Aspetta che qua abbiamo Compagnia Eh, sono belli retti esistenti Sti qua E In bocca Glielo ho lanciato Praticamente Vabbè Ok Perfetto Allora dicevo Non c'è nessun altro, no? No Ma devo Scansionare queste tracce Tracce Ok Di là Va bene Ok Un tracce in nascondiglio dei cat Lasciamolo lì La bestia Ah, forse in quella caverna Mi sembra un buon nascondiglio Eh Ok C'è una porta addirittura In Impatient Are we? Sloane I wasn't expecting you She wouldn't take no for an answer I'm not about to let someone else fight my battles Especially an initiative lapdog Eh Ki tozzi meg ezt aiuto? C'è un You don't want me here? Take it up with Kytus Oh, I will Enough Let's get this over with You're such a grump When you're worried Every second you're gone from the port Is an opportunity for the collective The Pathfinder and I can have What was that? They know we're here Get ready Ah, qui ne abbiamo anche lei Vabbè Con più fa comodo Allora Perfetto Aha Ci abbiamo il solito etereo Quattro zante Che rompe Ok Ok Morto C'era un consagrato Ma mi sa che è morto Aspetta La ne segnala due Oh, ma do Pensavo che era un Kyt Prendiamo robe Qui siamo qua Eccoli là Vediamo se riesco Ah, forse no Non l'ho preso Una edizione Vabbè Ecco Forse dalla distanza è un po' scomoda Questa Effettivamente Da troppa distanza No, non così in alto Ah, merda Non si è coperto Eh, vabbè Rifacciamo Dai Ok Rifacciamo Allora C'erano due Là in fondo Adesso però è uno Vabbè A meno che l'altro si nasconde Questa volta usiamo Va la pistola Voglio fare Lo stesso ruolo di prima Allora Questa volta T'ho preso bene T'ho preso molto Oh, c'avevo davanti il Tereo No C'è niente No Aspetta No, tra drak e... Morto Morto, morto Sì Ok Oh, perfetto Ah, basta Ma scusa Erano in quattro Voglio dire Tutto qua La C'è tutto qui Voglio dire Vabbè che si sono morto una volta Da stupido Però Cioè Boh Mi aspettavo di più Voglio dire I cat Stanno rinvadendo Kadara Un mini esercito Invece no Erano in quattro Con qualche bestia Vabbè Meglio così Però Poco realistica La cosa Degli attacchi Vabbè C'è nient'altro No Vabbè Prendiamo il litio Va bene Ok Questa roba Perfetto La togliamo Ok La nostra PV Oh Allora Aspetta Possiamo parlare Magari Con Sloan Kelly O se n'è già andata Magari Va a vedere Eccola lì Vuoi coprire le tracce Ah Vabbè Non volevo essere stato Come un mercenario Ma vabbè Ok Allora Dunque Mentre non registravo Ho preso Tutti gli attivatori Mnemonici E ho scansionato Tutte le rocce Minerali De tutto questo pianeta Quindi Da quel punto di vista Siamo a posto Allora Questa è la missione principale Lascerai un attimo Da parte E magari Facciamoci Sì Ho scoperto Esplorando Questa Queste due missioni E poi ci sono anche Queste due qua Va bene Anche questa Ho scoperto Esplorando Così Ho trovato Un SOS D'emergenza E mi ha sbloccato La missione Là in alto Allora Prima andiamo Qua dai Ok Qualcosa nell'acqua Cerca degli indizi Relativi alla morte Degli angara Esplorando cadare Trovate un insediamento Con i cadaveri Di diversi angara Esatto Allora Direi di andare qui Sì Qua Non so Non so per quale motivo Tutte le volte Che si raggiunge Sta zona Riparte Il dialogo Con Sam Ok Dicevo Riparte Il dialogo Con Sam Come se non avessimo Affrontato la missione Quando in realtà La missione L'abbiamo affrontata Di quella zona Un altro piccolo bug In questo caso È piccolo Meno male Ok Ce la farà No Non ce la fa Non ce la fa Meglio stare In assetto Da rampicata Ok Dovrebbe essere Dovrebbe essere lì Qua Ecco Vediamo un po' Contenito Andano scansionati Presumo Eh in effetti Meno che qualcuno Non abbia avvelenato La riserva idrica Aspetta C'è un data Appare qua Prima registrazione C'è un'altra Alievi studiando il nostro sistema di filtrazione. Mi ha avuto Carina e le sorelle guardare il facility. Se questi exilii apprezzano come fare le loro vetture, non ci bisognerà più di noi. Finale log, Sam. Alievi dei alievi hanno posizionato un luogo da qui. Si chiamano Caribdis Pointe. Una band di loro venivano oggi, chiedendo che noi vetture le vetture le vetture. Carina e gli altri hanno potuto le vetture. Potrebbero averli avvelenati, sì. E allora... Andiamo nell'altro edificio, vediamo. Vado, quanti corpi. No, hm. Volevo... In realtà volevo... Ecco. Eh... Usare lo scanner e invece ho mandato lì i miei compagni, vabbè. Mmm... Eh già. Esamina il punto Caribidis in cerca di indizi. Qua c'è un datapad. Nuova notazione. Mi fa male tutto. Ho vomitato così tanto che temo che non mi sia spaccato... Che temo che mi sia spaccato lo stomaco. Anche Skylar è il più forte fra noi, sta malissimo. Eh, secondo me sono stati loro. Gli esuli. Quindi... Bisogna indagare. Eh... No. A parte opposta. Ok. Aspetti qua... Si può passare. Bene. Aspetta, mi do una spinta. Ok. Perfetto. Oh. Ah... Sarà quello... L'accampamento? Sì, penso sì. Ah, siamo anche nel luogo della missione principale. Pensa a te. Vabbè. Alla fine fine ritorniamo sempre qui. Cioè... Aspetta. Qua devo andare. Vai, ridio. Ah, il transponder. Sì, ma non lo voglio prendere. Porca madre. Sono qua per altro. No, però mi indica lì. Aspetta. Sapremo... Ad andare qua prima. Non c'è nessuno con cui parlare. Mallox. Ehm... No, grazie. Ehm... No, grazie. Ehm... Vediamo... A prestazione qui c'è anche qualcosa di più. Iscrivali un sacco di numeri. Chessi nel senso di più nella condizione, però... Locano faremo un po' battaglia al lato, ma è praticamente un hotel che troppo. Poi staffi, calciate grubi, e il solo area per mille di pomeriggino di acquaτεllata. Vediamo di acqua di acqua di cappa. Sui amici. Ma, giocatore, sincti e immagini si trovavano a Angaroni, a quiù andrano, non c'è nessun馅 di qui. Il viaggersi sono diffezziati. Il livellano leרne di acqua di acqua di acqua. Mmh Cortesia sto cavolo Aspetta C'è cosa da esaminare Ah le cucette vabbè Secondo me sono stati loro Però vabbè mi indica giù Almeno mi sembra Se io mi allontano Eh mi indica giù infatti Qua dentro però Qui Hanno ripulito tutto Cassa Rubare non era abbastanza infatti Non ci penso nemmeno You murdered an entire town I'm not leaving until I know why We came to them Starving Dying of thirst But instead of helping us Those flap heads Let us dry Credits Clothes Weapons They took everything Not everything You survived You set up here The Angara Are the only ones Who know how to properly Filter this planet's water All we wanted Was to be self sufficient Direi che è disgustoso E meritano giustizia Tutte quelle cose Meritano giustizia I won't let you get away with this Figured you say that Kill them Ecco Scusa stessa Eh 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 Fammi uscire Fammi uscire Maledizione Aspetta Ok Ok Oh Allora Provo Perfetto Ok Muori Perfetto No perché ha tolto l'arma Perché cavolo Anarchito Detto Sono rimaste No ce n'è qualcuno No ma perché toglie L'arma da solo Porca vacca Ce n'è qualcuno In alto Forse Si Che non avevo visto Ah eccolo la Toglie l'arma da solo Eh dai Ok Oh Sono tutti morti Bravissimi Ok 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 Perfetto Oh bene Dai Questa missione Tutto sommato Non mi è dispiaciuta Devo dire Vabbè Noi siamo qua Eh vabbè Già che siamo qua Prendiamolo Vi devo dire Ricapito sempre qua Vabbè Prendiamo Transponder Cat Stiamo facendo progressi Va bene Va bene ok Ah quindi ok Devo ritornare sulla Tempest Vabbè Giochieramo qua Già Lama da amici Nemici Controlla l'email Abbiamo una missione nuova Così D'improvviso Va bene Ok Eh Ci indica Qualcos'altro Magari diamo un'occhiata In giro Vediamo di là Cosa c'è Non siamo riusciti a Salire Ok Vabbè Qua sono tutti morti Considerati i recenti Rapporti sulla presenza Di acqua tossica Sulle colline I piani per l'insediamento Su vasta scala Sono stati annullati L'area verrà sigillata E convertita In colonia penale Chiunque non rispetti L'ordine di evacuazione Lo fa proprio rischio E pericolo Ogni persona Presente sul territorio Sarà considerata La stregua Di un residente Residente permanente Non potrebbe Perlontanarsi Questo forse Era un gialletto Eh Non mi sembrava Vabbè Ah Ci chiamiamo ancora l'IA C'è l'IV Mi viene da chiamarla IA Vabbè Ok Allora Vediamo la prossima missione Eh Non sono rimaste tantissime Anzi Praticamente due A parte i monoliti Eh Queste due qua Va bene Allora andiamo qui Siamo già abbastanza vicini Sì Ok Allora Niente Quindi ci è rimasta Trovare una specie di reliquia Ok E poi vedere L'SOS Di che si tratta Va bene Mi couldn't Ho No matrices Grazie a tutti.